Sono alle Olimpiadi. Sui blocchi porterò i miei muscoli allenati e tutta la mia vita. Fino a 16 anni ho corso dietro una palla. Poi ho scoperto che volevo correre e basta. Mi alleno 7 ore al giorno, tutti i giorni. Con un dolore alla caviglia che non mi lascia mai. Il mio sogno è diventare l'atleta bianco più veloce nella storia dell'atletica leggera. Se mi concentro e scarico tutta l'adrenalina che ho dentro, forse riuscirò ad abbattere il muro dei 10 secondi netti. Posso farcela. Spreggiti 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 Grazie.